E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e che se ci gioca in Marroblos E quest'oggi siamo su Assassin's E un'altra mappa che ci avete chiesto in tantissimi Non l'ho mai provato e sono curiosissima di vedere che cos'è Specifico subito che dovrebbe essere similissima a Marder ma con qualche differenza In questo caso ci sta dicendo il target, ovvero la persona da ammazzare Mini Neda! Eccola, eccola, è dietro di te Ah no, abbiamo tutti i target diversi Ah, ecco, allora è bellissimo Tu chi è come target? Io ho un guest e non so quale dei due Io Mini Neda, l'ho uccisa, l'ho uccisa Ok, adesso devo ammazzare Fire Blades Credo di avercela fatta perché sono uscita dalla mappa Non ti hanno ucciso No, quando muori esci dalla mappa Credo che vince chi ne ammazza di più Capito? Ok Ogni volta che ammazzi un target te ne dà uno nuovo Ah, perfetto, ok, praticamente io ho ucciso Mini Neda Però allo stesso tempo mi ha ucciso un'altra persona Brava Quindi sono riuscita a eliminare lei, ma poi mi hanno eliminato Quindi hai fatto un punto È bellissimo che so In modo della radio averti come target? Guarda, appena ti ho come target ti distruggo Proprio mi alzo e ti distruggo nella realtà Così non fai punti, cara Così non mi interessa L'importante è distruggerti Non mi interessa Antipatica Allora, vediamo come sarà questa Quelle mappe sono sempre Cioè, sono tante mi sembra Mi sembra di vedere che siano tante Il mio target Ok Yoshi Channel No, mi hanno già ucciso Era Yoshi Ti vendico Grazie a te C'hai fatta? Sì Bravo, bravo, aspetta Ti aspetto Ti posso aspettare Ok Ok, arrivo, arrivo, arrivo Ecco la mini neda Vieni qua, mini neda Vieni di qua C'hai come target? Sì Vai, vai Vendicami Perché era anche il mio target Muoviti, muoviti A te ha ucciso il mio di target Eh sì Perché praticamente Ho visto lei Stavo andando dritta Dritta verso di lei Invece non mi sono resa conto Che ce n'era uno alle mie spalle Anche Crokey Devo eliminare tutti i consolini No, Farblaze Mi ha ucciso 3 kill 3 kill Guarda come scampare il pavimento Ui, ui, ui Uè Uè, uè Ma il parkour è tutto al buio Sì, è difficile, vai Cioè, è impossibile da fare I primi 3 salti sono facili Il problema è quello Bravissima Io non ci sono mai riuscito a fare quello Ok Ma io vedo che casco È perché sei un po' scarse No, nel blu Oh, ho preso Penso di aver preso la moneta Ti diamo il mio target Uuuh Eeeh Yoshi Yoshi channel Mi posso Mi posso vendicare Mi posso vendicare Che poi anche Yoshi Un consolino Non ci prova Non ridere Ho sempre Yoshi channel Poverino Io ho un guest random Ma i guest Chi se ne frega No, no Questa mini neda Yoshi Mi vuole uccidere Ah Aiuto Aiuto Mi hanno rubato il target Vieni qua mini neda Come ti sei permesso Secondo me Mini neda A me come target Perché mi sta inseguendo Te l'ho uccisa Cro Cro, ok E tu chi hai Io creo che Ucciso Io ho guest Oh no Ahimè Ahimè Lo sapevo Dove è finito il guest Bella fanzullina Dove è finito il guest Il mio target Il mio target è nascosto però Adesso io ho il tuo target Adesso trovalo Voglio proprio vedere se lo trovi Voglio proprio vedere Aspetta Dove il incidente è finito Aspetta Perché lui sta inseguendo a me credo Ok No, sta inseguendo all'altro Ma allora vuole affettare chiunque quello lì Eh sì Gioca direttamente ad affettare tutti Esatto Quando ammazza quello giusto E' contento Esatto Credo proprio di sì Allora mi devo nascondere Appena gira un angolo Lo taglia fat Ho lui come target adesso Aspetta Scendo all'improvviso Zà Zà No Hai perso per uno Eh sì Hai perso per uno Sei terribile No Peccato Io sono Quello con più kill Però credo che Conti soprattutto Chi è l'ultimo a rimanere in vita Sì esatto Esatto Penso che conti quello E quello automaticamente vince Particante l'ho visto che passava da lì Ho saltato per andarli dietro le spalle E l'ho mancato Vota per la space station Sembra bella Sì l'ho votata Sembra bella Ho votato quella 3-1 3-1 Dai che si gioca nella space station Sembra una bella mappa Sono curiosa di vederla Tu stai nonomalino vero? Sì Non ti stai inventando Nel pugnalare alle spalle Le persone Esatto No io preferirei Un posto dove Mi tralli le persone Esatto Tutti assieme Non mi piacciono le cose in stelle Non ti piacciono i coltelli Io sono più da Capito Battaglia Faccia a faccia Cattiva Capito Ok io devo ammazzare Minineda Ho visto cara Ho visto lo schermo Me lo ricorderò Allora Minineda è qua Minineda è qua Stai seguendo me Eccolo Eccolo Sì Cioè ero chiuso in una stanza Ero chiuso in una stanza Non è giusto Ti spetto Vai Ok È il tuo momento Minineda è l'altro mio target Fireblaze Che lui vince sempre Attenta crocchi Mi sembra minaccioso No Eccolo Eccolo No No Che scatole Il coltello più veloce È velocissimo Sto qua Non riesci a farlo Ogni volta che lo sfidi Zac È impossibile È impossibile Lo so Il VIP Allora Qui ancora non si è capita questa cosa Fateci entrare Che ci sono signor Maielina e capitan Jeff Che sono due VIP E devono avere l'accesso per forza Non potete negarglielo Comunque Altra mappa Vediamo un nuovo target Me lo sento che mi dà come target Me lo sento che sei tu No Ok 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 Stavo controllato per sicurezza No non devi spiare Esci Non devi spiare Minineda Vieni qua Minineda Ce l'ho fatta? No non riesco a prenderla Io non trovo più il mio target Non so più dove sia finita Sapesti il tasto per ammazzarla Eh come si tirano secondo te? Aspetta Trovano tutti i tasti Come si tira? Mamma mia mi sono tolto un prurito Era lì Che rimaneva a mezzo metro da me Non riusciva a ammazzarla Gira Attenta 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 Scappa da lui No ma È stato un po' strano Non so se mi ha lagato Però io lo vedevo più lontano E poi mi ha ammazzato Non so perché Ti prego scopri il tasto E ci ho provato Come faccio a scoprirlo? Non lo so Ma questo qua mi ti racconti Allora aspetta Facciamo così I consolini sono sempre tutto Come si lanciano i coltelli Facciamo così Ed è la cosa L'ho battuto L'ho battuto Quello disgraziato Che ci batteva sempre Guarda Oh finalmente Finalmente You are not cool Cioè si offende pure Allora Si offende pure Digli che tu sei VIP Fireblaze Aspetta He is I am Good Dice questo non è un duello Solo perché l'ho umiliato Cioè ma scherzi Allora quando Lui uccide tutti va bene Quando invece qualcuno Lo sconfigge Non va più bene I can No Ha detto che No no Non si dicono queste cose Non le ripetiamo neanche Censurato Non le ripetiamo neanche Comunque Minineda dice Tenere premuto per lanciare i coltelli Quindi dovremmo essere riusciti a scoprirlo È abbastanza scontato Frizi La verità è matta Scusa ti devo raccontare una storia Boom Poverino Allora Oh Fireblaze come target Io creo che E scappa come se non ci fosse un don Guarda quanto scappa Ma Guarda io non ho parole Cioè Ha sempre me come target Non capisco Oh Fireblaze come target Beata Allora La vorrei anche io Non vedo l'ora di vendicarmi Guarda quel disgraziato Devi ammazzarli in fretta Perché altrimenti Li compaiono altri target E ti fa fuori Esatto esatto Ma hai incastrato qui E lì Guarda Disgraziato Ucciso? Sì E anche lui è il mio target Mi dispiace ma è diventato il mio target Io ho dovuto far fuori Uno che avevo di fronte Ma poverino E vabbè diventato il mio target Allora Schiatta Schiatta Lo sapevo Stavo cercando di scappare Stavo cercando di scappare Già da 0,20 Ce l'abbiamo fatto a farlo livare Davvero? Così impara Faceva lo sbruffone E l'abbiamo fatto scappare No 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 Ok l'ho visto Che tu mi vuoi male L'ho capito subito Che tu mi vuoi male Io non trovo quello Che devo uccidere E lei? Sì Che succede? Che mi ha ucciso lei Ma no Avevo Una cosa un po' davanti Avevi Giada Io adesso Giada Che poi è lì Poverina insieme ad altri Sì cerca di ammazzarla Vai Vai Mi dispiace Eh ma anche lei Vedi È veloce Giada Tu vai lì Che la sottovaluti E zaa Perché sembra Che stia camminando D'altre parti Che neanche ti stia calcolando Invece Si gira Cazzo Brava Giada Infatti la prossima volta Tirale il coltello Tra vedere e non vedere Ragione La vedo da lontana E glielo tiro così Perché così Almeno rischio Ci fa fuori proprio Attenzione Giada Senza neanche paura Senza neanche un piccolo rimorso Capito? È proprio spietata È una sfida fantastica Tra Giada Mini Neda E Yoshi Channel Sono tutti i consolini Ma abbiamo conquistato Anche questo server Non l'abbiamo acquistato E l'abbiamo conquistato Lo stesso È fantastico Perché cacciano gli inglesi Capito? Arrivano E li iniziano a cacciare a ruota E si prendono tutti i posti loro È fantastico È fantastico Li assassinano anche nella vita reale Per prendere i posti Capito? Assolutamente No No Nada No Cara ragazza Non mi piace questa cosa Dove c'è Non mi piace Non mi piace per niente Ma perché io ho capito sempre il tuo target E tu non mi capiti mai Mi sarebbe uno contro uno Ascoltami Ascoltami Facciamo pace Crafting qualcosa Chi è crafting? Rivol è malissimo Aiuto Questa mappa è piena di cunicoli strani Alla faccia da Leopard E mi insegue Insomma guarda Io sono finita Fa troppa paura Credo che aiutatemi Io sono finita in un posto stranissimo Te lo dico Guarda Te lo dico Cioè non ti troverò mai? Eh credo di sì Credo di sì Ho fatto fuori Giada Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Tu hai crafting dietro? Eh sì È il mio target Ok Quindi accidenti Per andare a uccidere lui devo trovare a te Non è possibile Aiuto Non è possibile Aiuto Mori No Dove mi è uscito fuori? Da dove? Ti avevo visto Dove? Non è possibile Adesso il mio target è crafting Posso vendicarmi Dato che mi stai messo Quello che mi sembri minaccioso Oh C'hai fatta? Ti riflesso sì Bravo Ti aspetto ovviamente Vai Si avvicina Non lo sa Bravissimo Bravissimo No è troppo divertente È troppo divertente È bellissima Davvero bellissima È fantastico Perché La gente non sa Chi hai tu come target Quindi magari ti stanno inseguendo Magari Tu hai lui come target E ti nasce quindi dietro l'angolo E zac Infatti è bello quello È bello quello È fantastica Bellissima Ok Sono riuscito a vincere un partita Con 4 kill Poi ho sterminato tutti Velocissimo Posso finalmente comprare Dai 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 Voglio vedere cosa c'è Sono curiosissima Oh bello Bello Dai dai Ok You open static Sarà bello Sarà Però penso di sì Guarda Perché vedi che è 60% comune È 40% raro Infatti era con la scritta blu Quindi ti è capitato quello raro È avuto una fortuna incredibile Bellissimo Voglio vederlo Bellissimo Ultima partita per provare il coltello Spero non soffere Niki Perché poverina La macchina Ti capita Ti capita sempre Guardate che bello sto coltello Minimeda Bello Bello Devo inaugurare il coltello Sarà un onore per te provare Il coltello morì Ok 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 o Yoshi Ok o Yoshi Dribbling Ma no Me l'ho subito fatto fuori Comunque qualcuno ha ucciso Crokey È possibile che più di una persona Aveva lo stesso target A quanto pare sì Perché non c'è altra spiegazione Eh infatti non ho capito Perché c'è È andata giusta così la partita Non ho capito Non ho capito Vabbè Schiatta Uh Giada No 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 Giada Lo devo tirare Ora come ti tira i coltelli Anche lei Ok Io ho vinto di nuovo Bravo 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 Non c'entro nulla Io ho scelto il coltello Che è talmente bello Che mi ha dato la potenza Capito Per ammazzare tutti Comunque ragazzi Ci fermiamo così Per questo video È stato davvero divertentissimo Mi è piaciuta questa mappa È una buona variante Al murder classico Esatto Se ti stanchi un po' di giocare Perché conosci tutte le mappe Come è capitato a noi Almeno ci sono altri minigame simili Che comunque sono davvero Davvero divertentissimi Esattamente Si è bloccata Io pensavo E volevo dire Ed è ancora più bello Poterli portare nel canale Perché anche questa è una cosa bellissima Poterveli far vedere E speriamo che divertano pure a voi Esattamente Quindi fateci sapere Se vi è piaciuta questa mappa Se vi è piaciuta magari ne cercheremo Anche altre da giocare In modo tale da continuare a portare Questo genere di gioco Se ne fosse una che viene aggiornata Costantemente con nuove mappe Esatto Non sarebbe un problema Però purtroppo rimangono sempre uguali Quindi dobbiamo cercare nuove mappe Per giocare Per divertirci Ancora Bene ragazzi Vi ci piace di iscrivervi Se ci sono stati Sciateci un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi per non perdermi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao